Dopo la replica piccata di Tommaso Trussardi alla dichiarazione pubblicata da Hans a proposito del rapporto con Chiara Ferragni, l'imprenditore torna sull'argomento e posta tra le sue Instagram story una serie di scatti che dimostrano quanto aveva dichiarato e smentiscono la versione dell'influencer. Nelle foto postate sui social, Tommaso compare accanto a Chiara in occasione della sfilata primavera-estate 2016 del brand Trussardi. Negli altri due scatti postati dall'ex marito di Michel Unziker, Ferragni è l'unico soggetto della foto, ma alle sue spalle appare chiaramente il nome del brand Trussardi. Era stato lo staff di Chiara Ferragni a far trapelare una dichiarazione che in teoria avrebbe dovuto ridimensionare i pettegolezzi a proposito di un flirt in corso tra l'imprenditrice digitale e l'imprenditore. Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5-6 anni fa, avevano fatto sapere fonti vicine a Chiara. La volontà di porre l'accento sul fatto che due non si conoscessero ha infastidito Tommaso che ha replicato piccato. Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa bloggerina, la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei, come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi, hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l'ultima volta circa 4 anni fa. Devo dire che c'è sempre stato un rapporto unicamente di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia, ambo le parti. Liquidare tutto ciò con Non lo conosco neanche è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l'ansa per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno, non ne combinano una giusta.